Ciao ragazze e ragazzi, sono qui per il mio solito tutorial. Arrivo! No, volevo rimettere un pochettino poco poco di fondo. Non sto poco poco perché... Mi ero fatta la base e poi mi sono messa a cucinare e ho pranzato in modo che ero già a posto. Quindi ho voluto... Visto che poi mi sono lavate i denti eccetera eccetera. Poi oggi utilizzerò questa palettina pian piano e passo il mio pennellino con questo. Poi vado a prendere con le dita... Sono uno più bello dell'altro, penso di prendere questo. Vado ad applicare su tutta la palpebra mobile. È potente questa palette. Non so... Io l'ho presa a metà. Non so se c'è in sconto, magari... Io ve la consiglio. L'avevo già mostrata. È molto... Molto bella. Prenderò un po' di blu scuro. Lo porto un po' qua pian piano. Un po' alla volta. Un po' alla volta. Non so se c'è in sconto. 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 Volevo prendere un pochettino di questo scuro e lo porto un po' qua per fare una sorta di sfumatura Ok Prendiamo il punto luce, questo chiaro abbastanza completa come le palette Prendiamo il scuro Prendiamo il scuro Prendiamo il scuro Prendiamo il pennello del correttore Scusate che cambiamo un po' Musichino Prendiamo il pennello piccolo Prendiamo il scuro 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 Il nostro Mascara Il nostro Se vi piace più intensa la matita Si può mettere sotto Dentro la La rima sopraccigliare Sopra l'occhio Poi Oggi ho riportato Questo Voglio utilizzare questo Pa 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 sapete che è bellissima e poi vado ad utilizzare l'ultimo questo la l'ultimo la questa è mercato Poi prendo anche questo illuminante oggi, con le dita, è fantastico, questo per le ferie, se non ci va, è il topo. Perché non c'è un prodotto che non sia valido, il Sephora l'avevo preso l'anno scorso, me l'ho già mostrato diverse volte ovviamente, molto valido veramente, economico e valido. Nel rossetto di oggi andrò ad applicare un rosa, questo di Dolce Gabbana, che è il solito, che a me piace tanto. Cosa, un giro. l'ho già detto tante volte, non lo leggo ora, ve l'avevo già mostrato in vecchi video la matita di Primark vediamo che è un po' che ce l'ho su ecco fatto il mio look di oggi questo è il make up un bacione grande, buon weekend, ciao